Greco, Ciprini, Piepoli, D'Agostino, Di Salvo, Monchiero, Ci siamo? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 322 favorevoli, 3 contrari della Camera. Approva. Adesso chiederei al relatore i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. La parola al relatore. Parere contrario su tutti gli emendamenti. Il Governo. Orme al parere del relatore. Grazie. Allora, siamo sul 2.1 Alberto Giorgetti, identico al 2.2 Guidesi. Pareri sono contrari. Dichiaro aperta la votazione. Gregori, Montrone. Ci siamo? Migliore. Lauricella. Migliore ancora non riesce a votare. Vediamo se... Arriva il tecnico, Migliore. Grazie. 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 Grazie.